Collegato al tema dello sport c'è ovviamente un tema molto caldo in questi giorni da settimane, quello dello stadio Bonolis. A che punto è la trattativa che ormai sappiamo è conclusa insomma con il gestore Franco Iachin? Allora quello che posso dire è appunto che naturalmente la volontà ferma è quella di chiudere la trattativa visto che adesso siamo in effetti nelle fasi finali, c'è uno scambio continuo tra gli avvocati delle parti affinché si arrivi effettivamente all'accordo da presentare poi in quel momento alla maggioranza, alla commissione da portare poi in consiglio, quindi siamo proprio nelle fasi finali e ho imparato che non bisogna dare dei tempi ma credo che in questo caso forse potremmo anche pensare in settimana di vedere dei risultati. Il Città di Teramo è un spettatore interessato perché attende di capire se riuscirà entro il 12 luglio ad indicare lo stadio Bonolis nell'iscrizione? Certo, il Città di Teramo eventualmente dovrà poi partecipare alla gara per la gestione sportiva e nel frattempo quindi interagire con il comune nelle more dello svolgimento della gara, siamo perfettamente coscienti e consapevoli di questa scadenza e naturalmente stiamo pensando anche a questo, certo che sì. Alla luce di questa scadenza sappiamo che la prima settimana di luglio si terrà un consiglio comunale, ma non ci sarà la questione stadio evidentemente all'ordine del giorno? Non mi risulta, al momento non ho ancora, diciamo così, non c'è ancora un ordine del giorno, perlomeno non c'è stato ancora comunicato, però se sarà la prossima settimana come credo che sia, difficilmente faremo in tempo a fare i passaggi dovuti, ripeto, con la maggioranza e con la commissione. Dovremo attendere la prossima stessa civica eventualmente? Eventualmente sì, comunque tutto nel più breve tempo possibile, una volta che abbiamo l'accordo direi che tutto il resto sicuramente dovrà seguire una strada rapida.